Salotto of Clans Quindi insomma sono così in ritardo che a questo punto sono in giusto tempo per i prossimi giochi del clan Detto questo ragazzi oggi parleremo infatti mi sta già finendo la voce di 10 cose che non sai sui giochi del clan Modalità che è stata inserita su Clash of Clans recentemente e che decisamente adoro Direi di iniziare subito senza cincischiare Iniziamo subito con un fatto davvero molto divertente Se cliccate sui petardi ci sarà un'animazione fantastica di esplosione E io qui ci perdo le ore, i decenni a fare questa cosa Ma una cosa che forse non tutti sapranno Puoi anche cliccare sul pony e apparirà un'animazione particolare Il cavallino, il mini cavallino si muoverà Inoltre ragazzi abbiamo parlato di petardi perché? Perché questo strano machinjegno, ok chiamamolo così Assomiglia proprio a una difesa della base del costruttore del secondo villaggio Sono i petardi Solo che è cambiato il colore Il rosso è stato sostituito con il blu Numero 3 Il pony ragazzi Il pony l'abbiamo già visto da qualche parte se non ricordo male Ebbene non ricordavo male perché il pony è il bellissimo destriero del principe di Clash Royale Assente su Clash of Clans Ma che forse è andato a fare una capatina sul villaggio di Clash of Clans Chi lo sa perché il destriero è proprio là davanti ai nostri occhi E magari qualcuno non se ne era neanche accorto Ma poi mano a mano con i numeri che aumenteranno Queste sono le più facili Le ultime specialmente la 10 saranno le più difficili da capire Anzi diciamo la 11 La 11 perché ce ne sarà una bonus Il fuoco che vediamo ardere tutte le mattine Nell'epoca dei giochi del clan Ragazzi è qualcosa di familiare E infatti non mi sbagliavo perché il fuoco Il fallo per la precisione è anche una decorazione presente nella modalità del secondo villaggio Sicuramente molti se la ricorderanno Sicuramente alcuni ce l'avranno anche nella base del secondo costruttore Detemi qual è il vostro ostacolo preferito su Clash of Clans Commentando con hashtag salotto of clans Numero 5 Appare anche un bellissimo bersaglio in costruzione Una cosa davvero fantastica Con una stranascia poi conficcata Un boia così selvatico nel villaggio di Clash of Clans Ma sapete da cosa deriva? Anzi deriva da due cose effettivamente Dal bersaglio sempre decorazione del secondo villaggio Ma incontriamo il bersaglio in particolare con conficcata Cerco di aiutarvi una spada anche in Clash Royale Infatti è proprio l'icona della prova allenamento Sarà un caso che anche in quel caso c'è un bersaglio Con conficcato sempre un utensile sempre un'arma Secondo me ragazzi non è una coincidenza Infatti è il punto numero 5 Questa cosa secondo me non l'avevano notata tutti Anzi penso che solo un 40% dei giocatori L'avranno notata E l'ultima penso solo un 10% Se non un 5% Ad essere proprio ottimisti Passiamo alla prossima Bene ragazzi questa è una cosa molto interessante Che credo che quasi nessuno avrà notato O al massimo i TH11 ma neanche tanto Parliamo di una ricompensa dei giochi del clan Ossia gli artefatti Questi l'avrete notati senza dubbio Ma attenzione Perché chi è? Chi è che si occupa degli artefatti? Lo stregone? Ebbene non proprio Perché qui c'è un indizio molto ferreo Ossia se noi andiamo nelle info Del Gran Sorvegliante Vediamo che stringe tra una mano Tra le braccia Un libro strano Che mi sembra di aver già visto Quindi infatti è il libro onnisciente L'artefatto onnisciente con la Clessidra Quindi qualcosa sicuramente Il Gran Sorvegliante ha a che fare Con gli artefatti Poi vedremo anche nel futuro Cosa ci sarà? Questa è solo un'ipotesi Ma ci sono prove abbastanza tangibili Questa è una cosa che ho notato solo Mi sono ricordato proprio vagamente E è una cosa fantastica Scrivetemi se lo sapevate o no Onestamente Fategli onesti Numero 7 Palloncini Ragazzi ebbene ci sono palloncini Nella casetta Nella carrozza dei giochi del clan Ci sono dei palloncini Questi palloncini da dove sono ripresi? Precisamente anche qui abbiamo due locations Innanzitutto la difesa contraerea Mi sembra si chiami Farò un fail assurdo Però comunque quella di Clash of Clans Che ha dei palloncini simili a quelli delle bombe aeree Con il teschio Ma non ci concentreremo qui su questa cosa specifica Ma ci concentreremo su una carta che è stata aggiunta Abbastanza recentemente È l'ultima comune che è stata aggiunta nel mondo di Clash Royale Il barile d'ossa Il barile d'ossa nel nostro campo presenta dei palloncini blu Esattamente come la carrozza di Clash of Clans Sicuramente non sarà un caso Numero 8 Nelle ricompense il valore dell'oro Dell'elisir rosa O dell'elisir nero Che vi sarà dato Sarà stabilito in base alla vostra capacità Della tesoriera Ragazzi non so se lo sapevate È una cosa molto interessante Una delle missioni più prestigiose Dei giochi del clan Vale la bellezza Sparate un numero Provate a sparare un numero Ragazzi Provateci 400 ragazzi 400 è la missione più grande che ho trovato Non so se ne esistono altre Ma 400 è davvero una cosa Era mi sembra fare 800% nella seconda modalità L'ho fatta e l'ho completata È stato divertentissimo Numero 10 Non è stato chiarito Chi sia effettivamente il personaggio Alla guida Della carovana Però ci sono diverse similitudini Assomiglia Da una parte al gigante pugile Dall'altra assomiglia molto al bocciatore Ragazzi Scrivetemi con l'hashtag Salottofclans Cosa ne pensate Bonus Ragazzi La numero 11 Con la numero 11 Vedremo una cosa molto bella In particolare Le bandiere Ragazzi C'è una bandiera che sventola E queste bandiere Le ritroviamo anche Su un'arena particolare Di Clash Royale Ragazzi Vediamo se ve la ricordate Vi do qualche secondo È il pozzo Delle ossa Non l'avevo notato anch'io L'ho notato Mentre facevo una 2v2 E mi sono Ho visto queste bandiere Ho detto Caspita Sono molto simili A quelle del baule Scusate Dei giochi del clan Tra l'altro Anche lo stesso colore Quindi insomma Qualche similitudine Forse C'è stata Detto questo ragazzi Io vi saluto Spero che Spero di guarire presto O Insomma Mi guarirò presto Senza dubbio Sto in via di guarigione Quindi Spero di ritornare Con i video Eccetera Noi ci vediamo Come al solito Alla prossima Statemi bene Un salutone Leggendario A tutti